video questa è la parte 2 del mio video ciao sono raduno e sono con Nicole che però non farà parte del video perchè non saprei che farli fare e quindi non farà parte del mio video soltanto che sono a casa sua quindi farò se sentite voci strane e io direi di iniziare ciao allora ragazzi prima di tutto ho cambiato il bagno perchè qualcuno chiamato Nicole si è arrabbiata perchè gli ho copiato il bagno però sono salamentosa non ho detto niente e quindi ho dovuto cambiare il bagno infatti adesso è tutto diverso molto diverso ok possiamo iniziare veramente adesso allora ragazzi andiamo di là si andiamo 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 sì ragazze che c'è ma quando mangiamo tra poco poi si tra poco poi andiamo di là tutti in sala a mangiare perfetto grazie mille andiamo scusa mi fai passare si passa grazie oddio santo scusami perfetto oh nina vieni si arrivo eccovi qua perfetto no non ho scambiato i letti che cacchio oddio santo ok perfetto ce l'ho fatta ehm per cavolo aspetta io prendo il mio ipad guardiamo un po' di video anzi no giochiamo no non giochiamo guardiamo un po' di video sì che bello andiamo a guardare di là possiamo stare qua sì sì state pure di qua tranquilla aspetta che mi metto in mezzo che è meglio finiamo di guardarci il video nel frattempo oh ho idea ragazzi se cosa vuoi no non parlavo con te scusa ve ne vado ciao ragazzi eccomi sono qua con voi guarda ho idea ho una super idea ma che ne dici se tipo stasera visto che in teoria dovremmo uscire stasera robo qualche vestito a a Adele ce la posso fare ad Adele e però dobbiamo capire quale voglio mettersi stasera perché cioè io voglio fare colpa su Francesco come su Francesco sa che gli piace da 74 secoli non mi interessa appunto lo voglio fare apposta tu sei proprio perfida però va bene dai tu sei d'accordo da Francesca va bene però non mi prendo io la colpa sì sì tranquilla perfetto ragazze andiamo fuori sì ciao ciao madonna raga veramente torniamo di là a me vieni sì arrivo scusate ragazzi io ho paura che lei voglia escogitare qualcosa per darci fastidio sì è molto probabile conoscendola comunque madonna io ho un'ansia oh levati sì scusami aspetta che metto via la roba cioè via questo o te ne vai sì scusami cioè raga madonna cioè è troppo bello Francesco sì vabbè fatti le tue solite le soliti film mentali e quando è finito avvisaci ahah molto simpatica vabbè io vado a mangiarci ho fame sì vediamo vale possiamo mangiare sì allora adesso vado a preparare cioè aspettiamo che arrivi il cibo ok allora mettetevi qua nel frattempo grazie mille oh io e mezzo ragazzi chiaro tu sei la preferita qua eh io lo so lo sapevo lo sapevo cioè lo sapevo ragazzi a mangiare arriviamo aiuto ok arriviamo andiamo ragazze sì andiamo vogliamo oh ragazzi io devo stare qua sì vai mettiti allora voi state qui vicino a me ok andiamo ragazzi perfetto scusami sì che c'è scusami volevo starci io qua no ci sono le mie amiche ci sto io zia svegliati non mi interessa io devo stare qua perché qua ovviamente ci sarà Francesco ma non mi interessa Francesco allora ti levi senti ah che cavolo vabbè allora mi metterò proprio qua di fianco a Fra guarda che ci vuole stare Giulio là non mi interessa vabbè fatti tuoi oh Giulio andiamo a pranzo sì andiamo andiamo ora eh eh oddio eh io mi metto qua come mi metto sì sì Fra mettiti proprio qua va bene ma lì ci doveva stare Giulio eh vabbè cosa cambia ma è Giulio stessa cosa se come no vabbè ragazzi muovetevi dovete mangiare adesso arriviamo al tivo ah ragazzi mi sono dimenticata di registrare mentre mangiavamo che bello quindi eh beh continuiamo ragazzi allora adesso voi avete no non avete non avete niente adesso vi mettete quei vestiti che poi adesso vi distribuisco eh e andiamo eh al al campo andremo andremo con dei bus quindi ci sarà il bus composto allora da ehm Viola Nina ehm Adele ehm Amelie Giulio Giulio e Fra ok ok va bene va benissimo non è un problema ok e l'altro bus e gli altri bus saranno composti dagli altri no però io volevo stare nel multi-fra non mi interessa stai nell'altro bus ti attacchi porca miseria cioè sei per la metterti di tutto stai tu eh sei come me va bene ok ragazzi allora oddio santo esplosa tutto ok allora muovetevi dovete cambiarmi ok andiamo andiamo ragazze si oddio andiamo muoviamoci si andiamo oddio santo porca miseria ci porti tu i vestiti Ale si si tranquilla ve lo porto io oh che voglio oddio santo porca miseria che può che fa che è successo che è morto qualcuno no ma non l'avete veramente visto e cosa rega siamo nel bus di fra oddio mio oddio ma stasera usciamo ma si ma andiamo da qualche parte andiamo da dove andiamo dove andiamo alle giostre no alle giostre non mi piace si andiamo alle giostre va bene alle giostre almeno facciamo qualcosa si eh anzi no un'idea credete se chiediamo all'Ale se possiamo andare in un ristorante si 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 ci può stare anzi ragazzi facciamo che prima andiamo al ristorante poi andiamo alla sala giochi si ci stai vediamo anche i ragazzi chiaro cioè cosa cosa pensavi è ovvio è ovvio ok aspettiamo che l'Ale ci porti i vestiti ok noi siamo arrivati nel campo adesso ragazzi partite a correre veloci si si partiamo ci muoviamo ok è meglio o vi muovete si arriviamo aha io vi supero tutti ehm molto divertente ah ti ho superati o no 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 e voi non correte Oddio No cacchio Porca miseria Porca miseria Ok Sono arrivato prima di te Sono arrivato prima di te Io sono stanco oggi Sì stanco 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 Voi correte muovetevi No non è bene fatto Vabbè io sto qua con voi Sì Vi ho anche tu Arrivo Aspetta Aspetta Ciao fra Guarda come corre bene Sì Corri bene È più brava A dire non tu Sì come no Guarda Hai rotto le scatole Porca miseria Madonna Io corro troppo veloce Io mi metto qui Sì Ma ci sono A me vieni Sì No io non voglio questa poveraccia Da sopra Ma vai va Aiuto Esploso il mondo Aiuto Esploso il mondo Esploso il mondo Vabbè Non si riesce più a mettere Quindi aspettate un attimo Ok scusatemi Vabbè Io vado giù No aspetta Non sei là Stai qua Stai qua Francesco Qua Fermo Oh mi hai rotto lo scato Giulio Eccomi Questa qua mi è proprio rotto Io vado Ciao Posso andare un attimo di là Sì sì vai Grazie Grazie mille Speriamo che oggi facciamo lanci Sì ma non c'ho voglia di fare No stacoli oggi No ti prego Speriamo Vabbè Io vado un attimo di là Sì va bene Aspetta Vieni un attimo No non vengo Non c'ho voglia Posso andare a prendere Quello che ci serve Sì prendi peso e Cosa Il giappellotto Va bene Anche disco No disco no Ok Ecco qua Oh Ciao 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 Eh 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 Ciao Cosa ha detto di prendere la Ali No la nicchina Prendo il peso Prendo il peso Sì Ma Ti piace qualcuno Eh Cosa Ti piace qualcuno Sì È qui La chiusura Sì perché Ok È quella là Quella là chi Martina Ti piace Martina Quella brutta Cattivella Eh no No A dire il vero no Però Se pensi così Pensala così Eh Cos'ha detto di prendere Aspetta Eh Il giappellotto Aspetta Vediamo Prendere Porca Scusa Io prendo il peso Quindi Chi ti piace Eh A dire il vero Mi piace tu Come io Io A te A te A te A te Io Sì Tu Oddio anche a me piace Insieme Però Devi stare Vieta Se Giulio lo scopre Io sono morto Sono un uomo morto Sono un uomo morto Ok Tranquillo Non dico niente Non dico niente Però Io posso dirlo Almeno a A viola E a Nina Vabbè Però Assicurati Non lo dicano nessuno Guarda che C'è quella La Martina Appunto Sì è vero Quella Sì che ci prova con me Infatti Prima Ci prova tutte le volte con me Però Comunque bravo Mi hai battuto Sì Ok Andiamo Dai Vediamoci Ehi voi due Ci avete messo troppo Che avete fatto Ehi Ciao Ciao Tolgeve l'otto Tolgeve l'otto Miki Grazie Ok Ciao Ma pensi che Francesco ti noterà mai Oddio Scusate Spermi tutti Pensi che Francesco ti noterà mai Siamo amici Siamo amici Quanto basta Guarda che gli piaccio Tu 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 Piaccio Francesco La fraccia Sì perché ha problemi Madonna Sei orribile Oh Che dici tu Amo Dici che questa è brutta Sempre tutte le volte Sì è vero è bruttissima Andiamo Sì Io vado a fare peso Con fra E l'amici Va bene Signore Stai zitta Vi devo dire Delle varie cose Mi piace Questo Andate Non muovetemi Eh Andate tutti su Tranne Fra Tranne fra Marti Martina E Adela Ok Arriviamo Su Andiamo Su Ok Andiamo Ok Io vado giù Sì vai Vai mi passano Ok Eccoci Tu vai Eccoci qua Oh Ciao Fra Ciao Ciao Stai lontano Tu devi fare Cioè io cosa devo fare Mi dico Tu Cosa farai Fai Giavellotto No ma io volevo fare Peso come fra Non mi interessa Giavellotto E ti attacchi Al cavolo Ok Perfetto Aspetta Cambio location Ok Invece io cosa faccio Tu fai pietro come fra Eh però non è giusto Cioè hai le preferenze Michela Ma stai zitta Ok Allora Lancia Prima fra Ok Vai fra Sì Aspetta Oddio Uno Due Tre Bello 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 Mi è piaciuto Questo tiro Perfetto Allora Adesso Tira Martino Sì Tieni Tieni Nel frattempo Sì Oddio Non riesco Portami Tieni Oddio Santo To Grazie No dammelo Grazie 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 Mille Niente Lancia Dai Guarda fra Guardami 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 Sì Va bene Allora Oddio Scusate Vai lancia Ups Questo è un tiro Proprio piccolino Perché io sono Proprio piccolina Sì Ma vai va Senti Tu torna Su Quegli altri No Io volevo stare a comprare Oh Non mi interessa Non mi interessa Questa Sali Ok Scusami 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 Ok Ce la posso fare Ce la posso fare Oddio Santissimo Oddio Aspettate Ok Via Allora Devi Aspetta Un attimo Grazie Ricolle Allora Lancia Dai Giulia Wow Ma quanto sei brava Grazie Da Giulia Da De Stai pazzendo Vabbè Continuiamo Allora ragazzi Questa è la parte 2 Ci vediamo domani Con la parte 3 Comunque iscrivetevi Mettete like E allora Oddio Vi ho taggato nel video di ieri La ragazza che io tedevo Che mi ricordo come si chiama Ti ricordi come si chiama Nicole Quella che ci commenta ogni video Aspettate un attimo Arriviamo subito Nicole Vi dirà come si chiama Si chiama La Punto Giulia Trasilo Passo Metto Ciao Andatela a seguire Perché è brava Cioè è una bella ragazza E' una nostra Super fan Io la seguo Ok io la seguo E niente Ci vediamo con la Parte 3 Domani Ciao Ciao Ciao